La nostra associazione, fondata a marzo 2020, nasce con l'intento di creare per tutti i ragazzi opportunità di integrazione, svago e lavoro, rendendoli parte attiva della società. Le ragioni fondamentali che hanno dato vita all'associazione sono divulgare la cultura dell'autismo, creare spazio di integrazione e migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei ragazzi con lo spettro autistico. In particolare, il progetto del cambio per sociale e dei talenti, si è pensato proprio per dare vita ad un luogo aperto alle differenze, luogo dove pensare con altri ritmi e modi di vivere, creare relazioni, consapevoli di quanto questa opportunità potrebbe offrire a chiunque. Capita spesso che le famiglie con ragazzi speciali si trovino a vivere situazioni di disagio e di alienazione, date da luoghi e contorni poco costrui nei propri bisogni. Proprio da questa necessità nasce l'idea di creare un luogo dove natura, benessere, libertà di espressione e interazione si incontrino. Il progetto pioniere nato l'anno scorso con il desiderio di far vivere alle famiglie una notte sotto le stelle ha dato luogo a un sogno ancora più grande, creare un piccolo camping sociale attraverso l'incremento di altre due strutture in legno, in modo da poter far vivere alle famiglie delle avventure uniche circondate da un posto magico e collettivo. Aiutaci a creare il nostro camp dei talenti per permettere sempre più famiglie di vivere un'esperienza meravigliosa, immersi nella natura e sotto un cielo stellato.